Ciao a tutti ragazzi, visto che qualcuno mi ha chiesto di riportare come facevo una volta recensioni anche diverse dai droni oggi andiamo a vedere la recensione di questo nuovo smartwatch della Blitzwolf a mio avviso un ottimo rapporto qualità prezzo, in questo momento viene addirittura a 46 euro andiamo a vedere un po' le sue funzioni, l'applicazione, come mi sono trovato, durata dalla batteria insomma tutto quello che c'è da sapere su questo smartwatch a mio avviso realizzato veramente bene display, qualità costruttiva e proposto questo prezzo, poi lo vediamo nelle conclusioni finali, risulta essere molto interessante detto questo ci ripostiamo sul banco e andiamo a vederlo più da vicino ok ragazzi andiamo a vedere un po' più da vicino il nostro smartwatch, vi ricordo, Blitzwolf BWAT3C nuovo modello, me lo tolgo dal polso così faccio anche meglio a farvelo vedere la configurazione è veramente semplice, abbiamo sia nella confezione la possibilità di inquadrare il QR code e anche nelle impostazioni di andarci a prendere il nostro QR code ormai la configurazione di questi smartwatch è veramente semplice vi ricordo che dobbiamo avere Android 5.1 o superiore oppure iOS 8.0 o superiore schermo, allora partiamo subito dallo schermo perché è veramente eccezionale, non so se riuscite a vederlo anche al sole si vede benissimo, ho fatto anche qualche video allora qui dobbiamo andare subito nelle impostazioni a prendere un attimo lo schermo perché se no devo sempre disattivarlo, vediamo dove è ok ci siamo, siamo andati a impostare dall'applicazione che poi andiamo a vedere velocemente la disattivazione dello schermo dopo 20 secondi perché se no 5 secondi è impossibile fare il video allora vi stavo dicendo che per entrare dentro le impostazioni swipe dall'alto verso il basso ok e qui abbiamo tutte le varie impostazioni che ci permettono di andare a settare qualsiasi cosa abbiamo anche dei giochini, vi faccio vedere anche così la fluidità dello smartwatch veramente ottimo e lo schermo è fantastico, non so se riuscite a vedere ma vi stavo dicendo anche sotto al sole, vabbè adesso ho perso perché vabbè adesso non è che è facile giocare con la videocamera sopra ok, adesso, flappy bird, ok tac, vabbè niente, ci abbiamo provato giusto per farvi vedere che abbiamo anche dei giochi lo smartwatch è veramente fluido e qui abbiamo cronometro, gli allarmi, abbiamo tutto quello che ci serve per andare a impostare il nostro smartwatch vi ricordo che vi faccio vedere una carrellata veloce, allora se non trovate il QR code anche dalle impostazioni app scarica questa opzione ci permette di inquadrare il QR code e scaricare sul telefono l'applicazione da fit poi dopo come vi ho detto l'andiamo a vedere velocemente, usciamo, allora qui abbiamo il tasto per uscire dalle impostazioni e abbiamo anche i due pulsanti per muoverci nei vari menu ad esempio la luminosità io la tengo così e diciamo che riusciamo a gestire bene o male tutti gli scenari anche con fortissimo sole e adesso vi condivido anche un attimo sotto il sole con questa luminosità come si vede a mio viso bene e abbiamo anche un ottimo rapporto tra autonomia e gestione dello smartwatch autonomia vi ricordo può variare dagli 8 fino ai 15 giorni nel mio utilizzo diciamo che sono riuscito a fare 10-12 giorni con questo smartwatch per uscire sempre così possiamo rimuovere velocemente la vibrazione possiamo vedere l'ultimo aggiornamento possiamo attivare velocemente le chiamate o meno allora usciamo ancora per cambiare la watch face basterà tenere cliccato qua e poi possiamo andare a cambiare il tema sul nostro smartwatch dall'applicazione possiamo anche scaricarne di nuovi quello che mi piaceva di più è questo secondo me è carino, minimale, si vede bene anche sotto il sole insomma fra tutte quelle che c'erano ho voluto scegliere questo si scarica dall'applicazione sempre qui che vediamo dopo swipe ancora verso il basso qui abbiamo tutte le notifiche che ci arrivano anche le notifiche dopo andiamo a vedere le applicazioni che possiamo utilizzare swipe verso destra qui abbiamo un secondo menu che ci permette di in base a quello che vogliamo fare ad esempio ritorniamo sul contapassi e in base a quello che andiamo a selezionare lui ci va a muovere nel menu specificato ok usciamo ancora e verso destra abbiamo tutte le informazioni che possiamo ritornare anche nell'applicazione sono contapassi, saturimetro, battito cardiaco, telefono e tutto il resto guardate qua per me è fantastico adesso fatemi vedere quanto costa in questo momento per non dire cavolate ad un prezzo di 46 euro in questo momento abbiamo tantissime cose schermo fantastico autonomia ottima possibilità di controllare anche la videocamera player multimediale questo è l'esercizio per respirare noi lo avviamo e lui ci dirà di inspirare e respirare per fare appunto un allenamento di rilassamento allora volevo farvi vedere anche questo qui meteo ovviamente dovete sincronizzare lo smartwatch con il telefono e per ogni argomento ad esempio il battito cardiaco già sul telefono possiamo vedere i grafici vabbè adesso qua ci dice di tenerlo al polso adesso faccio un attimo quest'altro ad esempio questo ci dà tutti i grafici senza entrare dall'applicazione anzi dove che si vedeva meglio sul contapassi ecco qui ci dà una panoramica generale di come stiamo andando senza dover entrare nell'applicazione giorno per giorno se siamo riusciti ad arrivare al goal adesso io ho messo 7000 passi e niente a mio avviso fatta veramente bene per ogni cosa adesso perché il monitoraggio del sonno a me non mi piace tenere lo smartwatch mentre dormo però anche qui stessa cosa per ogni giorno possiamo vedere se abbiamo dormito le ore necessarie e niente poi questo per quanto riguarda lo smartwatch visto che sono qui ve lo faccio vedere da vicino a mio avviso in questa fascia di prezzo guardate qua veramente fantastico per me è fatto benissimo allora un po' grossino però per noi maschietti magari non ci dà fastidio a me piace poi dopo ve lo faccio vedere anche al polso sicuramente superiore rispetto ad altri smartwatch che ho provato in questa fascia di prezzo ve lo faccio vedere qui al polso adesso io non ho una mano grandissima però guardate che veramente fa la sua figura e niente andiamo a vedere un attimo l'applicazione la sincronizzazione vi ho detto che basterà scaricare l'applicazione con il QR code apriamo l'applicazione e entriamo sulla schermata principale la schermata principale come su altre applicazioni ci permette di vedere tutto il nostro riepilogo monitoraggio tra virgolette dei vari comparti salute contapassi, battito cardiaco, sonno abbiamo anche il saturimetro in questo caso ottimo diciamo che non gli manca assolutamente niente a questo smartwatch come vedete grafica minimale a me piace molto per ogni comparto come vi dicevo possiamo monitorare qui dall'applicazione se preferiamo oppure anche dallo smartwatch abbiamo un'ottima panoramica delle varie cose ok andiamo sul dispositivo qui possiamo dissociarlo associarlo possiamo impostare tutto quello che troviamo all'interno dello smartwatch con qualcosina anche di più ad esempio per esempio lo standby dello schermo l'ho dovuto impostare da qui chiusura automatica lo andiamo a rimettere a 5 perché per l'utilizzo che ne faccio 5 va benissimo tanto guardo l'ora ogni tanto monitoro i passi insomma con 5 secondi riusciamo a vedere un po' tutto adesso perché ho dovuto fare la recensione possiamo impostare quando non ricevere le notifiche possiamo impostare gli avvisi per quando bere l'acqua quando alzarci dalla sedia tutte quelle cose che ci permettono di essere attivi ok qui abbiamo le notifiche quello che volevo farvi vedere allora nelle notifiche come possiamo vedere abbiamo tutte le applicazioni di messaggistica è quello che ci serve per fare in modo che sullo smartwatch si arrivano le notifiche ci vibri possiamo anche leggerle le notifiche dallo smartwatch e in questa schermata decidiamo cosa attivare o meno watch face ecco in questa sezione possiamo decidere di selezionare quelle già caricate oppure andare in altri e scegliere ancora tante altre watch face ok torniamo indietro possiamo controllare l'aggiornamento firmware in questo caso è l'ultimo aggiornamento qui possiamo impostare il nostro profilo con l'altezza vi verrà chiesto già all'inizio peso tutte le nostre informazioni per tenere monitorato nel tempo tutti i nostri stati di avanzamento ok questa diciamo che è la panoramica dello smartwatch arriviamo alle conclusioni finali anche se avete visto che funziona bene ha un ottimo rapporto qualità prezzo e appunto arrivando alle conclusioni finali senza farvi vedere la mia faccia diciamo che autonomia sicuramente promossa una cosa che mi ha veramente stupito è la qualità costruttiva e lo schermo HD cioè guardate che roba forse fra gli smartwatch che ho avuto giusto uno ma questo secondo me è lo schermo più bello che ho visto almeno nella fascia dei 50 euro in questo caso anche meno adesso avete impostato 5 secondi infatti ogni volta si resetta ve lo faccio rivedere un'ultima volta non è neanche impostata la luminosità massima e vi posso assicurare che questa luminosità che ho impostato è più che sufficiente anche quando siamo sotto al sole battito cardiaco il monitoraggio di tutte le varie attività funziona bene ecco una cosa che ancora non vi ho fatto vedere è che possiamo ovviamente monitorare tutte le nostre attività di esercizi che possono essere passeggiata, jogging, bicicletta, salto con la corda insomma abbiamo tantissime attività che possiamo monitorare nel tempo e appunto vedere i nostri progressi è giusto per avere un quadro completo ho veramente tantissime funzioni anche le grafiche, le watch face mi sono piaciute qualità costruttiva e sicuramente ad un prezzo di 46 euro in questo momento veramente promosso dà anche proprio una sensazione di qualità al polso ma anche per chi magari lo vede dall'esterno e sicuramente a questo prezzo lo consiglio vivamente noi siamo arrivati alla fine del video e ci vediamo alla prossima ciao